Ciao ragazzi, ciao a tutti, guardate un po' cosa ho trovato, aspetta eh, che qua c'è sempre un casino. Ok, guardate un po', ho trovato questo video qua, mi sembrava, che dice che sei, dei video della NASA, mi sembrava la NASA, che ne so, qualcuno che lavorava per la NASA e si crea, ho flipato questo canale, e sono andato anche cercamola qua su Google, però comunque andiamo a vedere le informazioni e alla fine l'ho trovato lì, vedi la stessa cosa c'è qua. Comunque, questo canale qua praticamente diciamo che fa i video su, sui CGY, sull'animazione, su visuali della Fizz, praticamente fa video, foto, le modifiche con programmi, tipo quelli che usano la NASA, per quello, io pensavo fosse della NASA, il tipo è inglese, che volevo farvi vedere, ah sì, questo, scrivete, landscape, landscape, ok, guarda qua, vi esce un video, dove lui sette anni, otto, sette, quattro anni, due anni, c'è già tempo indietro, lui faceva questi video, hai capito, questi video, dove a me mi sembravano quelli della NASA, altri video, per esempio questo, però se noi andiamo a vedere questo, che comunque sono video, che sono fatti con, con una bassa qualità, hanno un 300, eh, guardalo qua, 360 megapixel, qualità, andiamo a mettere 360, la mettiamo al massimo, togliamo, la posa, la apriamo, la mettiamo grande, guarda qua, queste sono un'immagine 360 megapixel, fatte sette, otto anni fa, ok, guarda l'orizzonte, è sempre piatto, piano, è su un piano, piatto, guarda, di nuovo, ma guarda che roba, guarda che disegni che fa, eh, guarda che bella, la terra, è vera, è questa è la vera terra, vedi, te la mostrano, guarda, è piatto perfettamente, guarda cosa ci fa vedere, è il cavrone, guarda che cosa fa, che cosa crea con questi computer, guarda l'orizzonte, guarda le scelte chimiche pure ci fanno vedere, guarda che storia che fa, tipo, guarda che roba, sembrava che volasse al contrario, guarda il manichino addirittura, orizzonte piatto, guarda che roba grafica che crea, questo tipo, questo fa i giochi, fa i video, secondo me lavorava per la NASA, guarda, guarda, sembra reale, guarda le nuvole, piatte, in fondo, fanno un letto, piatto, no, 360 megapixel, incredibile, otto anni fa, adesso andiamo a vedere un po', ah scusa, torniamo indietro, andiamo su informazioni, ah vabbè ce l'avevo anche lì, comunque adesso andiamo a vedere i lavori che fa ora nel 2017, con una risoluzione molto più alta, sarà 1000 euro, 1000 megapixel, può essere, sicuro, eh, guarda lì, la famosa nave nel deserto, come è comparsa lì nel deserto, ah, tutta c'è una risposta, tutta c'è una risposta, guarda che roba, guarda cosa è in grado di creare, guarda la connessione internet, guarda, guarda gli aerei, guarda i satelliti, i satelliti non esistono, guarda che lavori che fa, incredibile, incredibile, se puoi noi andiamo a vederci i video, quelli di ora, 2 mesi fa 10 mesi 1 anno fa guardiamo questo che ho già visto infatti c'è la riga rossa andiamolo a vedere a qualità abbiamo 1080 pixel guarda che roba aspetta aspetta che questo mi sembra il Titanic a me guarda che roba sembra addirittura il Titanic che da lì cosa fanno partire un missile o uno shuttle vanno sulla nasa guarda che roba un missile no non è un missile cos'è che porca una nave no cos'è guarda che roba guarda l'Italia la gente ci crede per loro quando li mostrano questi video pensano che sia vero ti rendi conto guarda che roba 1080pizze guarda come si vede la gente si crede che è vero hai capito questo è lavorare per la nasa questi sono i video che fanno la nasa guarda che roba che vuole e la gente crede che questo è vero guarda questo che lavori che fa spettacolo è veramente uno spettacolo è così bello che ora ti mostro come lo fanno così ti rendi un po' conto no di come funziona il mondo semplicissimo stai a guardare grazie a tutti 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 grazie a tutti